Salve a tutti, ci sarebbero moltissimi argomenti di cui parlare oggi, c'è per esempio la manovra economica, c'è la proposta di togliere il numero chiuso all'università e io sono totalmente d'accordo, poi bisogna vedere come lo fai, ma io nel principio sono totalmente d'accordo e ne parleremo, ma ne parleremo domani, perché oggi è un giorno importante. Oggi è un giorno in cui ricorre il settantacinquesimo anniversario del rastrellamento nel ghetto di Roma, oggi è il giorno in cui ricorre la barbarie, 1259 persone, 1259 ebrei portati via all'alba e di questi 1259 ne sono tornati 16, di cui una donna, Settini e Spizzichino, questo è stato Auschwitz, questo è stato Birkenau, questo è stato il nazismo, ma cos'è il nazismo? Bene, qui c'è una tendenza molto errata a pensare che il nazismo sia qualcosa per cui uno esce di casa e viene massacrato, per cui uno esce di casa e finisce come Matteotti, non è così. Certo, se hai denunciato i brogli del regime fascista, sì, ma se sei un privato cittadino, non è che durante il periodo nazista o fascista uno non potesse girare, non è che durante il periodo nazista o fascista uno non trovasse più da mangiare, quello è accaduto dopo e accadeva prima ed era la base del loro ascesa. Il nazifascismo altronese, ci pensate bene, è un progressivo restringimento delle libertà delle persone, è un progressivo incitamento all'odio, cioè il diverso, l'altro, il musulmano, l'ebreo, il nero, il disabile, diventano tutte persone che vengono discriminate per il fatto stesso che esistano e accanto a questo, ripetisco, c'è un progressivo restringimento della libertà, dei diritti, della dignità delle persone, quindi non c'è più la libertà di stampa, non ci si può più opporre, non c'è più il pensiero critico, non c'è più la possibilità di dissentire, quindi non c'è più tutto ciò che compone una democrazia fondamentalmente. Questo è il nazifascismo. E allora oggi possiamo dire di vivere in una stagione nazista o in una stagione fascista? Bisogna ragionarci, bisogna ragionarci, bisogna rendersi conto di cosa si intende. Si può dire, tanto per citare un episodio, che a Riace stiamo assistendo ad un qualcosa di sconcio senza scomodare il nazifascismo? Secondo me sì. Si può dire che a Riace stiamo assistendo a una vera e propria deportazione di esseri umani? Secondo me sì. Si può dire che a Lodi, dove si è dovuta mobilitare la comunità nazionale con un gesto straordinario di solidarietà nei confronti di quei poveri cristi, figli di immigrati, la cui unica colpa è essere figli di immigrati, quindi poveri, quindi persone che possono permettersi lavori più umili, che non possono permettersi un aumento della retta della mensa e che per questo erano stati spediti dal sindaco Sara Casanova, sindaco di Lodi appunto, erano stati spediti a mangiarsi un panino. Si può dire che questo è un atto indecente? Sì, si può dire. Si può dire che l'Odi e Riace compongono la barbarie contemporanea? Sì, si può e si deve dire. Si può dire che i bambini che vanno a picchiare comunque ad aggredire un loro coetaneo nero gridandogli di faremo diventare bianco, ricordano tanto la canzoncina fascista a forza di legnate gli tornerà il pallore, dai 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 l'abissinia vincerai? Si può dire? Sì. E allora stiamo tornando nazisti, stiamo tornando fascisti? Sì, ma non è una questione di governanti, questo è il punto. Il nazismo sta entrando dentro di noi, questo è il problema. Guardate che Mussolini e Hitler non hanno inventato nulla, Germania e Italia erano naziste e fasciste ben prima della loro ascesa, loro non hanno ucciso la democrazia. La marcia su Roma e Rogo del Reichstag non sono un omicidio della democrazia, sono un seppellimento della democrazia, l'aveva capito molto bene Indro Montanelli. La democrazia si è suicidata e loro gli hanno dato l'estrema unzione. In Italia oggi come oggi ancora non è stata data l'estrema unzione alla democrazia, ma il rischio purtroppo c'è, come c'è in tutta Europa. C'è in tutta Europa il rischio politico di un tracollo, c'è in tutta Europa una revanche del razzismo, c'è in tutta Europa una revanche della discriminazione, c'è nell'Ungheria di Orban, c'è nella Polonia di Kaczynski, c'è in alcuni paesi dell'est, c'è nel gruppo di Visegrad, c'è in Francia. Scusa Macron, tanto per dirne una, ma quello che è successo a Clavier, ne vogliamo parlare, ma tu saresti l'argina dalle penne? Tu con quegli atteggiamenti saresti l'argina dalle penne? Ah, ma io do del tuo a Macron, perché siccome lui quando non gli si dà del lei, del voi, e non gli si riconoscono quarti di nobiltà che non possiede, si offende a morte, il mio primo problema è farlo arrabbiare, quindi non vedrà mai questa trasmissione, ma se mai qualcuno dovesse fargliela vedere, sarò ben felice di farlo arrabbiare. Tu, caro Macron, perché non meriti nessun rispetto, tu, caro Macron, sei uno dei problemi dell'Europa, sei uno dei drammi dell'Europa. Oggi ho detto che mi sarei occupato di Riace e di Lodi, avrei detto che mi sarei occupato di Mimmo Lucano, avrei detto che mi sarei occupato di questa vergognosa idea di portare via persone che a Riace hanno ritrovato una speranza e hanno restituito un futuro a una comunità che sarebbe rimasta senza di loro disabitata. L'avevo detto e lo sto facendo, ma voglio allargare lo sguardo, voglio vedere tutto quello che sta succedendo, quello che sta succedendo in Francia, quello che sta succedendo in Germania, quello che sta succedendo in Austria, voglio guardarlo tutto perché il razzismo ci sta divorando, il razzismo sta entrando dentro di noi. Noi non siamo di fronte a una situazione tecnicamente nazista o tecnicamente fascista, ma siamo di fronte a un pericolo che questo cancro ci stia entrando dentro. Il punto non è il tasso di nazismo dei nostri governanti. Non voglio parlare di questo, non voglio nemmeno pensare che sia tale. Io voglio parlare del tasso di nazismo che sta entrando dentro di noi, voglio parlare del tasso di barbari che ci sta entrando dentro l'anima, voglio parlare di quanto stiamo diventando violenti, voglio parlare di quel cittadino che va a definire gli immigrati pidocchi. Guardate che quando un cittadino definisce un immigrato un pidocchio sta usando la propaganda di Goebbels, sta usando il linguaggio di Eichmann che definiva gli ebrei materiale umano. Io ieri ho sentito, ho sentito durante una diretta sportiva, ho sentito parlare dei calciatori come di materiale umano. Ci sono delle parole che non si dovrebbero usare mai. Il materiale umano è un'espressione di Eichmann. Studiare prima di aprire bocca, anche quando non c'entra nulla, perché quando tu abitui le persone a parlare di materiale umano a proposito di persone, a proposito di esseri umani, quando tu abitui a parlare in questa maniera, anche se lo fai involontariamente, contribuisce alla barbarie. Quindi la paura mia oggi, parlando di Riace, parlando di Lodi, parlando di quello che sta succedendo, la paura mia è che noi stiamo diventando nazisti involontari, inconsapevoli. E guardate che il nazismo, il fascismo sono fenomeni che nascono sempre così, nascono dall'inconsapevolezza, nascono dal bisogno, ci vuole quello che ci pensa, ci vuole l'uomo forte, ci vuole un po' più di autoritarismo. E poi si finisce tutti a mano alzata, questo è il punto. Non siamo ancora a quel punto, ma rischiamo di essere in una stagione prefascista, questo sì. E attenzione, perché quando Mussolini marciò su Roma, l'Italia era pronta a battergli le mani, il re era pronto a dargli l'incarico, questo è il punto. Non ha avuto l'opposizione, l'ultimo che si oppose fu Facta, che rimise i bandi per chiedere lo stato d'assedio, l'ultimo, il liberale Facta, poi non ci fu più nulla da fare. E guardate che era andato al potere, sia il nazismo che il fascismo sono andati al potere con elezioni che non posso definire né libere né regolari, ma comunque elezioni. Attenzione, non sono andati su con un colpo di Stato, sono andati su per volontà popolare. Lonsdap ha preso il 43,9% alle elezioni del 5 marzo del 33, che significa che il popolo era pronto ad accogliere Hitler e quando il popolo è diventato pronto ad accogliere Hitler si è finiti così. Oggi vi mostro alcuni libri. Questo di Giacomo De Benedetti, bellissimo. Vi dirò anche una cosa. Questo di Anna Foa, Portico d'Ottavia 13. Questo di Susan Zuccotti, Holocaust in Italia. Ecco, questa immagine della bandiera di Israele con dentro una svastica è spaventosa, ma il libro è bellissimo, racconta le storie di tutti coloro che sono stati perseguitati, casi più celebri, raccontati insieme a quelli meno noti. Ecco, questi sono alcuni libri che oggi mi sento di consigliarvi. E mi sento di consigliarvi soprattutto questo, come vedete è un libricino piccolissimo, ma in questo libro è racchiuso tutto il senso di quello che è la barbarie. In questo libro c'è un racconto, si chiama Otto Ebrei e parla appunto di un funzionario di polizia. Ne scrive nella prefazione, ne scrive magistralmente Natalia Ginzburg, che dice in Otto Ebrei è evocata la figura di un commissario di pubblica sicurezza, il quale dopo la liberazione dichiarò all'Alta Corte di Giustizia di aver avuto la facoltà di far cancellare dalla lista di coloro che andavano alle fosse artiatine dieci nomi, ed egli mi fece cancellare due nomi scelti a caso e otto nomi di Ebrei. Otto Ebrei dunque gli dovevano la vita. Era questo per lui un condato di antifascismo, gli sembrava dovesse ora rappresentare dinanzi all'opinione pubblica un merito. Si tratta però ancora e sempre di una discriminazione di natura razzista. Gli Ebrei chiedono invece l'assenza di ogni discriminazione, chiedono il diritto di non avere speciali diritti. Ecco, questo è il punto. E conclude dicendo, in riparazione sarebbe rimettere gli Ebrei in mezzo alla vita degli altri nel circolo delle sorti umane e non già appartarneli sia pur per motivi benigni. Ecco, ecco, questo è il senso di questo racconto. Otto Ebrei che sono stati scelti perché Ebrei è sbagliato sia quando si tratta di ucciderli, sia quando si tratta di salvare loro la vita, perché quegli otto Ebrei andavano salvati non perché Ebrei, ma perché esseri umani, così come tutti gli altri 335 che sono finiti invece alle erdatine, così come i 6 milioni morti nei campi di sterminio. Ecco, questo è il senso, la differenza tra la discriminazione e la dignità umana. Ricordiamocene a Riace, ricordiamocene a Lodi, ricordiamocene in ogni angolo. E quando qualche cretino comincia a dire certe stupidaggini, a fare certi discorsi, diciamoglielo apertamente, sei un cretino e un fatto di igiene pubblica. A domani.